I carabinieri della stazione di Santa Croce Camerina, a conclusione di un'articolata attività di indagine, hanno dato esecuzione al decreto di perquisizione personale e domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, che ha permesso di trarre in arresto in flagranza di reato un 66enne ragusano per detenzione di sostanze stupefacenti. L'autorità giudiziaria, infatti, a seguito delle informazioni e degli indizi raccolti dei militari dell'arma, ha avvallato la richiesta avanzata disponendo la perquisizione. Nella circostanza, gli indizi hanno trovato conferma, poiché nella parte posteriore del cortile dell'abitazione dell'uomo, poco distante da un sistema di irrigazione, è stata rinvenuta una vera e propria coltivazione di ben 28 piante di cannabis, tutte oltre il metro di altezza. Per tale motivo, il 66enne è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, sottoposto ai domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria, mentre le piante sono state sottoposte a sequestro penale unitamente a una pistola calibro 9, detenuta legalmente ma per le circostanze sottoposta a sequestro cautelativo.